Grazie, grazie a tutti. Dio vi benedica, meravigliosa Chiesa. Siete preziosi, è qua, basta una domenica, non esserci e sentire forte la mancanza della Chiesa. Siete preziosi. Un tempo fa il pastore diceva, io non potrei vivere senza la Chiesa, ma potrei dire la stessa cosa io, non potrei vivere senza la Chiesa, perché siamo membra l'uno dell'altro e non possiamo fare a meno di incontrarci, di stare insieme e benedire il nome del Signore. Amen. Dio è buono, Dio è meraviglioso e Dio sta compiendo un'opera straordinaria. Lo Spirito Santo è all'opera, lo sapevate? Lo sapevate che lo Spirito Santo è all'opera? Lo Spirito Santo si muove, si sta muovendo. è come un fiume che scorre, un fiume ricco di abbondanza, un fiume ricco di vita, un fiume ricco di potenza, un fiume ricco di amore. Lo Spirito Santo è un fiume ricco di amore. Questa sera vogliamo essere abbeverati, cibati, vogliamo essere saziati dalla sua parola e dalla sua presenza. Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel Vangelo di Luca, al capitolo 15. Luca, capitolo 15. Solo alcuni versetti. Il versetto 20. Dal versetto 20 è scritto in questo modo. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare gran festa. Questo è il testo della parola di Dio, ma farò riferimento ad altri passi delle scritture, proprio per condividere durante il tempo di preparazione per questo messaggio, quello che Dio ha messo, il peso che Dio ha messo dentro il mio cuore. E questo peso veramente forte, veramente grande, ha a che fare con la nostra relazione con Dio e con l'amore immutabile di Dio. Quindi questo peso ha a che fare con questi due aspetti, la nostra relazione con Dio e il suo amore immutabile nei confronti dell'uomo, nei confronti dell'umanità. Noi sappiamo sin dall'inizio della storia che Dio e l'uomo erano in un certo qual modo la stessa cosa. Dio ha creato tutto, ha creato in cinque giorni tutto quello che noi vediamo, lo spazio, i cieli, la terra, il mare, gli animali e l'ultimo giorno, il sesto giorno, Dio crea l'uomo. Dio crea l'uomo e gli affida tutta la creazione che lui ha creato. Quindi sin dalla Genesi, sin dall'inizio, vediamo una manifestazione forte e generosa da parte di Dio verso l'uomo. Una manifestazione dell'amore, una manifestazione dell'amore di Dio verso la sua creatura. Quindi vediamo questo Dio generoso che dice all'uomo di dominare su tutta la terra, di dominare su tutte le specie animali e di godere di tutto quello che lui ha creato. Quindi non un Dio avaro, non un Dio tirchio, non un Dio con poca creatività, ma un Dio straordinario, amèn, immenso, ripieno di bontà, generosità e amore. Affida tutto questo come un regalo, alcune volte oggi si fa la corsa per un piccolo pezzo di terra, per avere un luogo dove costruire una casa, ma vediamo qui Dio dà tutta la creazione nelle mani dell'uomo. Vedete questo grande gesto d'amore e Dio vedendo l'uomo vide che l'uomo era da solo, che aveva bisogno di qualcuno che fosse carne della sua carne e ossa delle sue ossa ed ecco un altro gesto d'amore gli fa la donna, un essere straordinario, un essere simile a lui che sarebbe stato un aiuto convenevole. E quindi Dio creò Adamo ed Eva e loro erano felici di stare alla presenza di Dio, erano felici di godere la comunione con Dio e di avere la relazione con Dio. Infatti è scritto proprio nella Genesi al capitolo 3 che il Signore si trovava a passeggiare nel giardino sul far della sera, quindi questo ci illustra che il Signore sicuramente nella manifestazione della persona di Gesù Cristo passeggiava, aveva comunione con Adamo, con Eva, parlavano, chiacchieravano, cosa avete fatto oggi, mostratemi i vostri lavori. E quindi loro erano felici, contenti, appagati di questa relazione che avevano con Dio. Ma sappiamo che qualche cosa purtroppo ha interferito questa relazione tra Dio e l'uomo. C'è stato come una grossa meteorite che si è scagliata, si è abbattuta contro Adamo ed Eva. Questa meteorite prende nome di tentazione. C'è stato un momento in cui si è presentata la tentazione dinanzi ad Adamo ed Eva. E sappiamo quello che è successo. Satana, l'avversario di Dio, che si trovava in questo giardino nel quale Dio aveva posto Adamo ed Eva, ecco che inizia in modo sottile a mettere in dubbio l'amore di Dio verso di loro. Vedete? Perché quello che fa Satana verso Adamo ed Eva è mettere in dubbio il fatto che Dio li ama. Perché dice, ha veramente Dio detto che non dovete mangiare di nessuno di questi alberi? E dice no, lui ci ha detto di mangiare di tutti gli alberi tranne di un albero della conoscenza del bene e del male. E ci ha detto di non mangiare di quell'albero altrimenti morremo. Cosa gli dice Satana? No, non morrete affatto, anzi lui sa che quando ne mangerete diventerete simili a lui. Vedete? Quindi mette Satana, l'avversario, mette in cattiva luce Dio. E questo per noi deve essere un insegnamento monito a non permettere alla tentazione di mettere in cattiva luce Dio nei nostri confronti. o di mettere in cattiva luce l'amore che Dio ha nei nostri confronti. Purtroppo conosciamo la storia che cedettero loro a questo inganno, videro che il frutto era desiderabile per essere mangiato, per essere gustato, era bello da vedersi ed era un frutto che mi avrebbe dato grandezza e mi avrebbe reso come Dio, mi avrebbe dato la conoscenza e mi avrebbe reso uguale a Dio. Loro cedettero a questa tentazione che l'apostolo Giovanni chiama, in quel contesto della prima epistola Giovanni, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Ecco questa grossa meteorite si abbatte contro di loro, ma loro avrebbero potuto disintegrarla, questo grosso masso, questa grossa menzogna, questa grossa tentazione. Loro avevano il potere di distruggere questa tentazione, con la solida roccia della verità, amen. Con la solida roccia di quello che Dio aveva detto, loro avrebbero potuto rispondere, vai via da me Satana, tu menti, quello che Dio ha detto è verità, lui mi ama, lui ha il meglio per me, vai via da me, amen. In questo modo avrebbero dovuto rispondere, quella meteorite, questa grossa pietra, si sarebbe frantumata e non li avrebbe intaccati, perché avrebbero risposto con la verità, amen. La verità ci rende libere, purtroppo questo non accadde. Provate a immaginare che mondo sarebbe oggi se non ci fosse stato il peccato. Un mondo in cui non esisteva la morte, un mondo in cui non esisteva la malattia, non esistevano le guerre, non esistevano gli abusi dei bambini, non esistevano gente che si suicida, che si impicca. Non c'erano di tutte queste cose, ma ci sarebbe stata pace, gioia, prosperità e vita, vita in abbondanza e vita eterna. Quindi se non ci fosse stato il peccato, questa sarebbe stata la condizione dell'umanità. Eppure c'è stata questa caduta, questa caduta che ha interferito la relazione tra gli uomini e Dio. Infatti è accaduto che subito dopo la caduta il Signore sul far della sera era lì che passeggiava e chiamava Adamo, Eva, loro udirono la voce ed ebbero paura. Vedete il peccato produsse nel cuore di Adamo ed Eva in primis vergogna, perché si accorsero che erano nudi. Prima erano nudi, ma era come se erano vestiti, perché non c'era malizia. Ma nel momento in cui peccano, ecco che hanno vergogna. Quindi il peccato porta la vergogna e in secondo luogo portò cosa? La paura. Udirono la voce di Dio e anziché sentirsi confortati, anziché sentirsi consolati o amati, ebbero paura. Perché? Perché avevano creduto alla bugia di Satana e Dio aveva detto nel momento in cui ne mangerete, morrete. Quindi temevano ora il giudizio di Dio. Infatti, come dice Giovanni, non c'è motivo di avere paura, a meno che noi, se qualcuno ha peccato, chi ha paura è perché teme un giudizio. E loro temevano il giudizio di Dio. Infatti conosciamo che Dio, per onorare se stesso, li allontana dal giardino dell'Eden e non permette di avere accesso all'albero della vita affinché loro continuassero a vivere. Quindi da quel momento in poi, Adamo ed Eva nella vita dell'uomo entra e, fra virgolette, i giorni degli uomini iniziano ad essere contati. Mentre prima i giorni dell'uomo erano illimitati perché mangiavano del frutto dell'albero della vita e vivevano in eterno, i loro corpi si rindigorivano, ringiovanivano, mentre in quel caso, non accedendo più a quest'albero, ecco che ora avevano i giorni contati. Gli anni, quelli che Dio aveva assegnato a ognuno di loro. Ma inevitabilmente sarebbe arrivato il momento della loro morte, della fine della loro vita. Eppure, nonostante questa grande e grossa disubbidienza, nonostante Dio li dovette allontanare per onorare se stesso, vediamo che Dio continua a manifestare in un modo cadenzato, in un modo costante, il suo amore verso il genere umano. La prima cosa che fa quando li vede vestiti di foglie, li riveste con delle tuniche di pelli. Quindi vediamo che Dio, il Signore, sacrifica degli animali per fare dei vestiti di pelle ad Adamo ed Eva. Quindi vediamo qui una manifestazione ancora dell'amore di Dio. Ma a motivo di questa caduta, a motivo di questo peccato, sappiamo quello che ne è seguito, Caino che uccide Abele, e così tutto il genere umano che si corrompe fino ai giorni di Noè, in cui Dio poi dovette nuovamente giudicare, ma lasciò un residuo, sempre perché? Per amore. E quindi vediamo nel corso della storia che Dio cerca sempre di intervenire con amore e con pazienza nei confronti dell'umanità, nei confronti dell'uomo peccatore. Anzi in un passo nella Bibbia appunto è scritto io non contenderò per sempre con l'uomo perché non è altro che il polvere. Non contenderò per sempre, come dire cercherò di fare qualcosa affinché la nostra relazione possa essere stabilita e ristabilita per sempre. Quindi questa relazione fu interrotta perché misero in dubbio l'amore di Dio e scelsero di credere alla bugia di Satana. Mancarono l'obiettivo e quindi peccarono. Quindi questo è quello che noi oggi vediamo nella nostra società. Il motivo di così tanta malvagità, di così tanta corruzione è perché l'uomo ha abbandonato Dio. L'uomo non si ritrova più alla presenza di Dio. L'uomo non cerca Dio. E questa storia della Genesi la vedo come un parallelo della storia del figlio al prodigo. Questo giovane che si trovava nella casa del padre. In questa casa aveva tutte le comodità e aveva una meravigliosa relazione con il proprio padre. Mangiavano la sera, si raccontavano i successi che avevano avuto durante la giornata. La mattina lavoravano nei campi, trafficavano. Era una famiglia in cui si stava bene. Un padre che aveva dei servi, delle serve, degli animali. Quindi viveva questo figlio nell'abbondanza. Ma un giorno sappiamo che decide di voler avere la sua autonomia, di voler avere la sua indipendenza, di voler essere forse uguale a Dio. Vedete, un po' lo stesso sentimento che Satana seminò nel cuore di Adamo ed Eva. E così disse, papà dammi tutto quello che mi spettia, tutto quello che mi spetta, e così il padre fece in questo modo e lui cosa ha fatto? Anziché restare, perché poteva restare, nonostante l'eredità, poteva restare nella casa del padre e costruirsi, farsi un avvenire, continuare ad avere rapporti, relazioni con la famiglia del padre. No. Cos'è che fa? Se ne va lontano. Ecco questa parola, lontano è importante. perché così come Adamo ed Eva furono allontanati a motivo del peccato, dalla presenza di Dio, allo stesso modo questo figliuolo si allontanò dalla presenza del padre, perché? Perché nel suo cuore concepì il peccato. Forse lui concepiva di poter fare quello che suo padre gli proibiva di fare. Suo padre gli diceva non stare con le persone frivole, non stare con gli ubriaconi, non andare dalle prostitute, ma pratica gente sana, pratica gente meglio di te, pratica gente che ti possono dare, che ti possono arricchire, non gente che ti porta a divertirti e a sperperare i tuoi soldi. e quindi probabilmente era nauseo di questi consigli del padre e lui decide basta ora me ne vado, me ne vado lontano, me ne vado lontano dal padre mio. Quindi concepì già dentro il suo cuore, perché conosciamo la storia, concepì il peccato, infatti andò a sperperare i suoi soldi, andò a sperperare i suoi averi con gli amici, con gli ubriagoni, con le meritrici, con le prostitute. E quindi ha dato ampio sfogo alla sua natura di peccato. Alla sua natura di peccato. E nonostante la sua lontananza, dove si trovava il padre? Io mi sono interrogato di questo, nonostante la lontananza di questo giovane. Dov'era il padre? Il padre, ora ci arriveremo, ma il padre era lì a casa, ma che ogni giorno il suo cuore e il suo amore era costante e immutabile nei confronti del figlio allontanato. Amen? Lo credete? Anche se noi, anche se ci siamo allontanati da Dio, l'amore di Dio verso di noi non cambia, resta immutabile. Lui continua ad amarci, continua ad amare il figlio al prodigo fino alla fine. Dio è amore. Dio è amore e vedendo un'umanità che stava andando al disastro, che stava andando verso il baratro, lui provvede qualcosa di importante. Provvede una soluzione. Dio, il padre, provvede una soluzione stabile, una soluzione definitiva è una soluzione eterna. Dio provvede una soluzione stabile, una soluzione che non può essere smossa, una soluzione immutabile che non cambia nel tempo, ma che resta valida per tutte le età, per tutte le generazioni, per tutti i secoli. una soluzione sicura, una soluzione duratura, che non finirà mai eterna. E questa soluzione Dio gli dà un nome a questa soluzione. Questa soluzione è suo figlio. Questa soluzione è suo figlio, il figlio suo amato, colui che passeggiava il far della sera al far della sera e aveva dialoghi meravigliosi con Adamo ed Eva. Dio decide per ripristinare questa caduta, questo 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 grande disastro che il peccato aveva compiuto nel cuore dell'uomo, Dio decide di provvedere a una soluzione stabile e definitiva ed eterna. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo è stato offerto una sola volta per i nostri peccati e per sempre. Amen! Quindi un sacrificio unico e per sempre. Un sacrificio valido, unico e per sempre. Questa soluzione che Dio ha provveduto è il suo figliolo Gesù Cristo. Gesù Cristo Dio lo ha mandato per perdonare i peccati di tutti gli uomini. Se questa sera ci sono persone che vi trovate qui per la prima volta voglio darvi una buona notizia. Gesù Cristo è venuto sulla terra proprio per te. proprio per te questa sera che stai ascoltando questo messaggio. E Gesù Cristo è venuto per perdonare tutti i tuoi peccati e lui ha compiuto un sacrificio stabile definitivo ed eterno per te e per ognuno di noi. Amen! Dio ha perdonato tutti i nostri peccati e questa è una bella notizia. A motivo della corruzione del peccato gli uomini si sono creati delle religioni a forma d'uomo. La religione a forma d'uomo è quello che io posso fare per Dio. Quello che io posso fare per piacere a Dio. Mentre tu non puoi fare niente assolutamente niente per piacere a Dio. Amen! Ma Dio ha fatto tutto affinché tu possa piacere a Dio. Amen! Questa è la differenza tra la legge e la grazia. La legge esiste solo per mettere in evidenza che noi siamo dei peccatori. Io fino a che non conoscevo i dieci comandamenti non mi sentivo peccatore ma quando ero piccolo e mi hanno insegnato i dieci comandamenti ogni volta che ne trasgredivo uno nella mia coscienza era come se mettevano cento chili e quando ne trasgredivo un altro altri cento chili alcune volte camminavo così a motivo del peso dei miei peccati perché la legge dà consapevolezza di peccato e se noi non provvediamo la soluzione se noi non andiamo alla soluzione rischiamo di camminare con questo peso del peccato dentro il nostro cuore e se non ci ne liberiamo di questo peccato questo peso così grande ci farà sprofondare fino all'inferno e nessuno vuole andare all'inferno amene allora vogliamo lasciare questo peso che ci portiamo dentro andando dove andando alla soluzione la soluzione sul Golgota la soluzione sulla croce la soluzione ai piedi di Gesù Cristo la soluzione per avere un cuore libero da ogni peccato per avere una coscienza pura e pulita e andare a Gesù io ne so qualche cosa perché io ero un religioso cattolico nell'età dell'adolescenza tra i 12 e i 15 anni dicevo il rosario frequentavo il mese di maggio il mese di giugno il mese di maggio per Maria il mese di giugno per il sacro cuore di Gesù facevo tutte queste cose perché avevo bisogno di sentire il mio cuore sgravato dai miei peccati ma niente di queste cose riusciva a sgravare il mio cuore anzi più facevo queste cose e ogni volta che sbagliavo il peso nel mio cuore aumentava mi sentivo sprofondare mi sentivo dannato mi sentivo come è scritto nella lettera romana al capitolo 7 povero me chi mi libererà da questo corpo peccaminoso da questo corpo di peccato povero me finché un giorno mi parlarono della grazia grazie è favore immeritato grazie è un favore che tu non lo meriti ma Dio lo ha compiuto per questo la vera religione è quello che Dio compie per te non quello che io compio per lui amen perché se io cerco di compiere qualcosa per lui non faccio altro che aumentare il peso dei miei peccati ma se io invece guardo quello che Cristo ha fatto per me ricevo la rivelazione di quello che Cristo ha fatto per me voglio raccontarvi questo e poi voglio concludere con le parole che ho letto all'inizio del figlio il prodigo un giorno mi trovai sul balcone dove abitavo prima di sposarmi quindi sul balcone di mia mamma e pregavo e guardavo al cielo e riflettevo sulla croce e ringraziavo Dio e dicevo Signore ma allora è veramente vero che io non devo fare niente per essere salvato ma devo semplicemente credere in Gesù nel Cristo crocifisso e il Signore mi diceva sì Alfio devi semplicemente credere in quello che il mio figlio ha fatto lui ha compiuto tutto lui sulla croce si è sostituito al posto tuo dovevi morire tu ma è morto lui ma quando è morto lui sei morto anche tu con lui perché la lettera romana ci dice questo che se noi ci identifichiamo con una morte simile alla sua sperimenteremo anche una risurrezione simile alla sua amene e io sperimentai che ero stato crocifisso con Cristo e c'è stato un momento che mentre pregavo nella mia immaginazione spirituale mi vedevo io crocifisso con Cristo e mentre Cristo moriva io morivo e mi sono sentito liberato perché ho visto quella natura di peccato che mi affliggeva che mi faceva sentire in colpa che sporcava la mia coscienza che moriva con Cristo e ho ricevuto una grande liberazione ho ricevuto la liberazione di tutti i miei peccati amene e mi sono sentito sgravato leggero pulito e quando ho visto Cristo risorto dai morti mi sono visto io risorto con Lui quando mi sono battezzato ho detto poche parole ma le ho dette perché le avevo sperimentate nel mio cuore le parole che ho detto sono state queste non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me amene allora questo non significa che io sono perfetto questo non significa che io non pecco non sbaglio ma la Bibbia mi dice che se noi abbiamo peccato Gesù Cristo e se noi confessiamo il nostro peccato Egli è fedele e giusto da perdonarci ma ancora continuo dicendo che se noi camminiamo nella luce come Egli è nella luce il sangue di Gesù suo figlio cosa fa? ci purifica costantemente da ogni peccato amene allora questo è l'amore immutabile di Dio Dio ha scelto un mezzo che sarebbe stato stabile e duraturo nel tempo e questo mezzo non erano i sacrifici del Vecchio Testamento che si dovevano ripetere ogni giorno e ogni anno ma il mezzo che lui ha stabilito è un agnello puro un agnello innocente un agnello senza macchia e non ce ne sono stati sulla terra che avevano questi requisiti se vogliamo un po' fantasticare ha guardato in mezzo a tutti gli angeli ma nessuno aveva questi requisiti poi alla fine ha guardato verso suo figlio sicuramente il cuore del padre era rotto mi ha detto figliuolo solo tu hai questi requisiti sapete cosa ha detto il figlio? padre ecco io vengo per fare oddio la tua volontà amen nella lettera ebree è scritto così e Cristo si offre per te e per me per sgravarci dai nostri peccati voglio concludere si alzò tornò dal padre ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide il padre l'amore del padre era lì costante ogni sera andava sulla collina e guardava il figlio per vedere se tornava ora il figlio aveva capito e questo è importante che noi capiamo comprendiamo nello stato in cui noi ci troviamo abbiamo detto all'inizio a ristabilire la nostra relazione con Dio ed essere confortati dal suo immutabile amore allora il figlio ha preso coscienza del suo stato della sua condizione e cosa ha fatto si è alzato ed è andato dal padre ha preso posizione Dio conosce qual è la condizione del nostro cuore parlo prima alla chiesa e poi parlo alle persone che sono qui per la prima volta se la tua relazione con Dio si è un po' indebolita a motivo delle prove della vita oggi è il tempo di rafforzare questa tua relazione con Dio non devi sentirti in colpa perché forse sei stato lontano no perché la colpa non viene da Dio perché Cristo ha tolto ogni colpa ma puoi sentirti triste nel tuo cuore perché hai rattristato lo spirito santo e allora fai come ha fatto il figlio il prodigo alzati e vai verso il padre perché non ti aspetta qualcuno per punirti o per bastonarti ma ti aspetta un padre amorevole per accoglierti e per abbracciarti suo padre lo vide e ne ebbe compassione compassione è un sentimento amorevole verso una persona che si trova in uno stato penoso quando io mi sono convertito mi trovavo in uno stato penoso Dio ebbe compassione di me e mi ha salvato tu che sei qui per la prima o per le prime volte che ancora non hai ricevuto Gesù Cristo ora mi rivolgo a te questo può essere il tuo giorno il giorno in cui le braccia del padre ti aspettano ti vogliono accogliere e ti vogliono dare la vita eterna quando il figlio andò verso il padre il padre lo vide ne ebbe compassione lo abbracciò lo abbracciò lo baciò e lo ribaciò gli mise una veste un anello e dei calzari e fecero grande festa perché quel figlio era perduto ed è stato ritrovato questa sera voglio fare un appello a quanti si trovano qui per la prima o per le prime volte vedo il gruppo musicale a salire sul pulpito e invito la chiesa a pregare quanti si trovano qui per la prima o per le prime volte tu che ancora non hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore sento forte l'amore di Dio l'amore di Dio non cambia non muta ma il padre non poteva fare niente non poteva andare lì e costringere il figlio senza il suo consenso o senza la sua volontà il padre era lì che aspettava quando il figlio comprese capì decise e questo è il momento della decisione si alzò girò le spalle a quella vita che non gli aveva dato niente ma solo miseria e sofferenza e andò verso la casa del padre il padre era lì pronto per accoglierlo e questa sera tu che ti trovi qui per la prima o per le prime volte puoi fare allo stesso modo lì dove tu ti trovi vi invito ad alzarvi all'impiedi lì dove tu ti trovi puoi fare la tua scelta puoi dire signore ho bisogno di te signore ho bisogno di ritornare a te desidero che questa relazione tra me e te possa essere ristabilita è lì dove tu ti trovi mentre ogni occhio è chiuso mentre la chiesa prega lì dove tu ti trovi se tu vuoi dire signore io voglio iniziare una relazione con te voglio essere salvato voglio essere liberato dal peso di tutti i miei peccati voglio credere in Gesù Cristo lì dove tu ti trovi ti invito ad alzare la tua mano verso il cielo perché vogliamo pregare per te quella mano verso il cielo indica il tuo sì il tuo sì verso Dio è come il figlio al prodigo che si è alzato è andato verso la casa del padre alza la tua mano mentre la alzi Dio benedica quanti la state alzando e mentre cantiamo questo cantico vogliamo pregare per le vostre vite vogliamo pregare per i vostri cuori vogliamo invitarvi a venire qui davanti vogliamo pregare per le vostre vite vogliamo prenderci cura di voi vogliamo spiegarvi la parola di Dio Dio ti sta chiamando questa sera anche a te che forse da anni che non vieni e forse questa sera ti ritrovi qui in questo luogo Dio ha parlato al tuo cuore Dio ti sta chiamando anche tu puoi venire perché il Signore vuole consolare vuole accoglierti affinché tu inizi una nuova vita un nuovo cammino mentre cantiamo questo cantico vi invito a venire qui davanti quanti vi trovate qui per la prima o per le prime volte quanti forse è la prima volta in assoluto che vi trovate qui abbiamo detto questa è una famiglia e vogliamo aiutarvi ad abbracciare la grazia e l'amore di Dio Alleluia 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 Alleluia